Ciao, come stai? Ciao cara, oggi è... bene, grazie, tu come stai? Bene, benissimo, tutto benissimo. Peraltro Gigliola, mi chiedevo, in questo momento così, chiamiamolo in questo tempo, non tempo, come trascorri le tue giornate? Te che sei oltretutto stilista, ma stilista di terza generazione, perché appunto tu sei la figlia di Raffaella Curiel, quindi oggi le giornate di uno stilista, le tue giornate, come trascorrono? Ma le mie giornate trascorrono, devo dire, piene, per fortuna, nel senso che si riesce, chiaramente con tutte le limitazioni del caso, a lavorare. Chi fa un lavoro creativo, poi comunque il suo spazio, anzi, forse questa tranquillità, in un certo qual senso può, da un certo punto di vista, aiutare, nel senso che poi riesci, hai sicuramente più tempo per leggere, per guardare, per avere diverse fonti. E poi in realtà ci stiamo, io, sai, lavoro tanto con la Cina, e metà sono cinesi, e quindi loro sono ripartiti, quindi poi, insomma, non dico alla normalità, perché non è normalità ancora neanche là, ancora neanche là, però diciamo che si riesce a lavorare. Io poi lavoro anche per questa azienda, sempre di famiglia, ma da parte di mio papà, che si chiama CNC Milano, che fa tessuti di arredamento, e invece in questo caso ci stiamo così inventando nuove forme per presentare collezioni di tessuto, insomma, per sviluppare un po' nuove tecnologie, quindi direi che, insomma, la mia giornata, poi con casa, famiglia, cani, pappagalli, direi che è al pieno delle forze. E a proposito del pieno delle forze, e quindi anche dell'innovazione e della tecnologia, oggi ormai la moda si sta orientando sempre più sulla sostenibilità, appunto, proprio lo scorso agosto è stato siglato anche il Fashion Path, dove appunto diverse realtà di caratura mondiale, d'accordo appunto con il presidente Macron, hanno stabilito di adoperarsi affinché l'universo moda possa proiettarsi e rendersi ancor più consapevole dell'esigenza di provare ad andare verso una direzione sempre più sostenibile. L'alta moda... Sì, adesso ci sarà un bel problema con tutta questa merce che è rimasta nei negozi, speriamo che trovino una soluzione che, ecco, quello preoccupa un po'. Come immagini una prossima Fashion Week? Dopo il lockdown, scusami. No, no, sì, sì, allora per settembre in realtà non sarà tutto tornato, penso, perché come non riapriranno le scuole o perlomeno apriranno a singhiozzi, immagino che la normalità non ci sarà, così come non sarà normale viaggiare, immagino ancora, o comunque viaggiare normalmente. Spero di sì, ma le previsioni purtroppo non sono in quella direzione, almeno basandomi un po' su quello che dicono delle scuole. E quindi è difficile immaginarsela, perché, no, chiaro che poi le Fashion Week l'abbiamo visto da Armani, l'abbiamo visto con la Biagiotti, che le sfilate si possono vedere anche in altro modo. Però intanto siamo tutti molto in ritardo, credo, con le produzioni, nel senso che, appunto, essendo stati chiusi, la moda poi ha sempre corso, cioè è sempre stata ciclica e ultimamente nei anni correva veloce. Secondo me ci sarà un sano ritorno a delle velocità più normali, un po' dettate anche dal consumo. Io penso che anche il consumatore non avrà più... Io spero che questo stop a cui siamo stati obbligati a tutti abbia un po' fatto pensare tutti un po' anche ad un ritorno, non so, di qualità più che di quantità. E quindi spero che non... Magari, ecco, se forse era un po' tanto, io non dico che fosse sbagliato, però magari si ritorna... Sempre è chiaro che chi lavora lavora tanto e chi lavora corre. Però, ecco, secondo me... Io ho detto anche perché proprio la nostra è un po' una realtà un po' sui generis, però c'era tanto correre, tanta... una cosa dietro l'altra. Cioè non c'erano più neanche più le quattro stagioni, ce n'erano, non so, dodici di stagione di moda. Quindi forse è tanto... è tanto usa e getta anche da parte del consumatore o tanto consumismo. Quindi forse... si torna un attimo più a delle realtà un po' non come era la moda, perché tutte le innovazioni che sono state sono fantastiche. Nessuno vuole guardare al passato come a qualcosa da agognare, però ogni tanto il passato aiuta, ogni tanto gli stop aiutano, ogni tanto si possono trovare delle buone vie, chiamiamole vie di mezzo. Quindi definiamo questo momento come un momento di maggiore consapevolezza? Assolutamente. E anche di ritrovo della famiglia, degli effetti, perché questo essere costretti a stare tutti a casa e tutti insieme in qualche modo l'avevamo anche perso. La nostra vita frenetica oggi ci permette di fare veramente a malapena degli incontri forse con la nostra famiglia, forse nel weekend. Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. Io pensavo che le mie figlie non resistessero, ma ce la stiamo facendo, nel senso che sono loro, che sono... Io, quello che mi piace pensare è che mi piace di tutta questa situazione che non mi aspettavo dai giovani una reazione così pronta, così matura. Lo dicevo l'altro giorno anche a Ciana, questa nostra amica comune che ha due ragazzine, anche lei insomma, adolescenti. Noi abbiamo sicuramente più preoccupazioni perché è chiaro che è giusto così, però per loro sicuramente la prova è stata più difficile nel senso che gli è stato un po' tolto tutto quello oltre la scuola e la famiglia che hanno, ma anche tutto quello su cui il loro mondo gira intorno, lo sport, gli amici, no? Sì. Le passioni, soprattutto a quell'età lì e parliamo delle nostre che sono comunque ragazze fortunate, immaginiamoci poi tutte delle realtà molto più difficili di ragazzini che davvero devono stare in famiglia e non piacevoli come le nostre, poi magari neanche per le nostre figlie non siamo piacevoli, ma insomma ci sono realtà che sappiamo essere ben diverse. Sicuramente molto più difficili. Tutto tornato diciamo che è stato un po'... E quindi trovo che questo a me dà una grande speranza questi ragazzi, questi giovani, questi ragazzi sono bravi, quindi quando i ragazzi, quando i giovani sono bravi il mondo va bene. Gli esperti ci dicono che per un lungo periodo dovremmo ottenere le mascherine e allora mi viene normale e naturale pensare che diventeranno anch'esse fashion, quindi un accessorio fashion da portare sempre con sé, chiaramente non tanto la mascherina quella tecnica che servirà appunto per proteggersi e per proteggere gli altri dal virus, ma quanto un coprimascherina. State già pensando ad una collezione dedicata? Ma noi direi come Curiel sicuramente non ancora e non lo so se lo faremo perché un po' trovo che sia più una cosa da quasi un po' secondo me ci sono delle nicchie dei nostri colleghi che sicuramente sono più bravi a farlo e secondo me è un prodotto che ha bisogno di tanta comunicazione, di tanto marketing e noi siamo un po' fuori ancora da quella realtà lì. Col Petaportè possiamo pensarci con la nostra linea appunto di Curie e Linie e allora potrebbe essere carino inventarsi qualcosa per quello. Per l'alta moda non lo so, forse sì, è più un'operazione di marketing che in realtà di vero business. Invece ci sono dei marchi nostri amici che sicuramente sapranno sfruttare l'occasione e lo sapranno fare molto bene. Parlavamo poc'anzi appunto di questo tempo rallentato che ininterbilemente rallenta un po' tutta la produzione come è giusto e naturale che sia. A tal proposito proprio qualche giorno fa Brunello Cucinelli ha dichiarato che l'imprenditore appunto Brunello Cucinelli che conosci chiaramente benissimo e con il quale ha condiviso lo scorso anno il palcoscenico della Teatria Antica di Taormina per la notte di Taormina perché entrambi premiati me la sogno Agate ancora quella storia. Sì ritorneremo anche a quel sogno è vero è vero ritorneremo anche a quel sogno quasi quasi diventa anche questo momento per apprezzare ancora di più quello che facciamo che a volte ci sembra talmente normale e stressante ma di questi tempi veramente siamo nostalgici persino dello stress per cui sì sì e appunto parlando di Brunello lui ha comunicato proprio per recuperare queste tempistiche questi ritardi ha chiesto ai propri dipendenti di poter lavorare anche nel mese di agosto fatta eccezione per una settimana e quindi di lavorare mezz'ora in più al giorno per poter recuperare il recuperabile tu credi che questo tempo impiegato in più possa essere sufficiente a recuperare il tempo perduto? Ma io credo di sì alla fine l'italiano si è sempre rivelato un gran lavoratore in tutte con grande con grande anche con grande fantasia ma comunque non ha mai avuto paura di lavorare tanto non credo che sarà un sacrificio per nessuno lavorare ad agosto nel senso che credo che in questo momento nessuno pensi alle vacanze nel senso che pensiamo tutti di ritornare sul campo chi è imprenditore ha anche la responsabilità di tante famiglie e le famiglie hanno voglia di tornare a lavorare quindi io penso che non gli si chieda un sacrificio ma gli si chieda un sacrificio si aspettano e tutti abbiamo bisogno poi soprattutto nella moda la moda ha i suoi tempi e quindi a settembre bisognerà essere pronti c'è poco a fare e lo saremo anzi in teoria prima bisognerà essere pronti bisogna vedere ecco è un'altra cosa prima si usciva con le collezioni durante poco prima la settimana della moda adesso si esce con le collezioni a giugno quindi magari anche questa cosa qui viene una più rallentata e torniamo a dei ritmi un po' più ecco un po' più sì in una condizione quindi io per settembre sono assolutamente serena nel senso che sicuramente si lavorerà ad agosto e ce la faremo è che gli schemi erano un po' cambiati ecco prima dell'arrivo della pandemia avevate in programma visto che siamo ad aprile aprile come tutti sappiamo gli addetti al settore appunto è il mese della settimana dedicata al design a Milano appunto della Milan Design Week avevate in programma qualcosa prima del lockdown chiaramente non come Curiel ma come CNC appunto con questa azienda di tessuti di arredamento dovevamo essere al salone del mobile proprio in questi giorni che sarebbe iniziato ieri no 20 sì 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 saremmo in piena fiera idealmente siamo in questo momento tutti a Milano nel clou della fiera siamo tra Rob Brera tutta la zona del design Tortona insomma è bello anche pensare e menzionare questi eventi che sono quegli eventi che fanno ancora più grande la bella Milano della quale in questo momento abbiamo tutti nostalgia perché comunque che se ne possa dire e pensare Milano ce l'abbiamo tutti nel cuore è un punto di riferimento per noi italiani e sicuramente un punto di riferimento per la moda e la comunicazione e parlando di Milano in questi giorni la tua mamma come trascorre le sue giornate la grande Lella Curiel ma la mia mamma non è mai uscita di casa negli ultimi due mesi non ha messo un'unghia fuori è terrorizzata però sta bene serena e come tutte le persone creative ha un sacco di passioni e quindi le sue giornate passano lavora un po' meno perché chiaramente non è cioè non è proprio così tecnologica come neanch'io però sicuramente più di lei diciamo generazionalmente fa un pochino più fatica però usa i social e passa le sue giornate e lei ha un magnifico ballatoio perché abita in una casa di ringhiera e quindi dice la sua campagna dove lei ha la passione del giardinaggio quindi ha qualsiasi tipo di pianta in questi piccoli vasetti da balcone è un trionfo in questo momento cucina non si sa per chi perché lei mangia pochissimo ma è un'altra delle sue passione poi legge legge guarda fotografi nel senso che poi per prendere le sue ispirazioni i creativi ha riniziato a cucire a rammendare a ricamare si sta mettendo a posto un po' le sue cose e è molto serena pensavo che sorpresa ci riserverà a proposito della storia della Maison Puriel proprio lo scorso settembre in occasione della appunto della Fashion Week milanese è stato presentato è stata presentata dalla serie televisiva Made in Italy una di queste puntate devo dire anche molto emozionante è dedicata alla storia di Raffaella Puriel una ragazza abbastanza determinata e tenace la mamma beh sì lo era e lo è io ho trovato la serie molto carina ma ben fatta a me io mi sono molto divertita a guardarla e devo dire che e la puntata sulla mamma vabbè la cosa del Marocco non la ricordavo non la sapevo ma mi ha fatto un'impressione incredibile perché tutti i vestiti erano originali e quindi quelli me li ricordavo bene poi lo sapevo perché li abbiamo mandati noi dall'archito quindi sì ma quando ho visto l'attrice vestita era vestita con un vestito di mia mamma che io avevo nella testa da quando ero piccolina e quando c'è questa scena dove lei è chinata che guarda le cose positive vestita come mamma con questa cascata di capelli che da dietro era identica mi ha preso veramente un'emozione incredibile mi ha fatto un'impressione eh sì eh sì effettivamente lo immagino perché guarda all'esterno anche a me ha dato una ha suscitato una certa emozione soprattutto puoi vedere scoprire la storia perché poi sai finché la si studia la conosci per professione però poi eh rivederla su una pellicola sicuramente gli dà tutta un'altra emozione tutta un'altra emozione eh oggi se volessi eh immaginare una testimonial per la Maison Curiel la Maison Curiel del domani a chi affiancheresti l'immagine? adesso non so perché mi hai appena parlato della eh della serie ma mi è piaciuta un sacco scusami ti è piaciuta tantissimo chi? la protagonista della serie ok sì e perché la trovo chic ok è donna Armani ma questo non toglie Armani Beauty sì sì esatto esatto ma la trovo chic femminile è un po' più eh diciamo forte delle donne che normalmente ci rappresentano però la trovo la trovo molto chic bella moderna ehm le indossatrici degli anni ottanta erano davvero delle celebrity delle ognuna diversa da loro o tra loro assolutamente diversa l'una dall'altra ehm oggi le indossatrici hanno quasi abbandonato quel ruolo di celebrity con questi personaggi che costruono non so vogliamo parlare un po' della Cindy Crawford degli anni ottanta slash novanta parliamo di vabbè Naomi c'è sempre per cui ho partito Naomi è sempre sulla cresta dell'onda oggi invece in qualche modo il loro ruolo da star eh fatta eccezione appunto per alcune di esse è stato usurpato dalle celebrity il fatto è che anche le modelle anche le modelle che sono delle star perché vengono ritenute come top in realtà io non sono molto d'accordo su tutta questa cosa devo dirti perché trovo che le modelle non non vengano rese belle cioè se tu guardi le modelle durante le sfilate io non trovo che siano belle che poi sia una scelta ma in generale è un po' una moda ecco e perché questa moda di renderle a parte tutte quante non guarda non so dirti perché io non noi come scelta per ecco questo magari non succede nella couture perché se vedi anche le sfilate a Parigi c'è un altro tipo di allure mentre nelle sfilate di per te io è una cosa su cui personalmente non sono d'accordo nel senso che renderle un po' tutte uguali come look sì lo capisco renderle quasi un po' bruttine forse per dare risalto all'abito per quello che vuoi tu però la donna non è tanto resa al suo massimo della bellezza che poi non lo so ogni tanto le vedi molto giù di tono non so come dirti molto standardizzate molto che lo capisco che sia una scelta che ha tanti motivi dietro però trovo che la donna bella è talmente bella perché non deve essere bella e ragazze bellissime non è che parliamo cioè comunque vengono però è un po' un po' perché c'è stata appunto c'è questa tendenza un po' a rendere anche un po' questo no gender no questa ambiguità però trovo non lo so io trovo che la moda è fatta per rendere anche anche per rendere la donna bella o gli uomini belli o la donna bella per prescindere ma questo non vuol dire che per forza bisogna renderla insomma le tue figlie sono la quarta generazione della maison curie chi di loro ha realmente ereditato questa passione per la professione allora le mie figlie saranno la quinta perché io sono la quarta ecco quindi loro sono già la quinta ok loro saranno la quinta e la più piccola per il momento è quella più indirizzata a insomma a seguire le orme con delle sue idee ben precise che è giusto che ci siano perché ormai voglio dire una generazione soprattutto lo spazio che c'è stato tra noi e i nostri figli è stato generazionalmente enorme insomma con tutto quello che è successo diciamo che non sono 16 anni o 20 anni o 25 anni stati 25 anni normali generazionalmente normali è successo di tutto e di più e quindi ha delle sue idee molto chiare ha molto buon gusto questo non lo dico da mamma ma obiettivamente il buon gusto ce l'ha e quindi se vorrà andare avanti ben venga insomma lasciamole fare la sua strada pian piano un'ultima domanda e poi ti lascio alle tue figlie Gigliola come quanto secondo te sarà difficile la ripresa del Made in Italy allora sarà difficile tutto perché sarà comunque un ripartire lentamente sarà sarà una bella lotta per tutti partiamo sicuramente da un punto di vista di debolezza ma il Made in Italy parte sempre avvantaggiato rispetto agli altri perché il Made in Italy è unico quindi diciamo che sarà meno difficile che per gli altri la Cina al nostro fianco la Cina sarà al nostro fianco al fianco dell'Italia assolutamente sì ne sono convinta bene bene Giulio Lacara grazie infinite per questa piacere grazie a te su Instagram ormai ci avvaliamo anche noi di questo strumento per tenerci sempre vicini nonostante distanti fisicamente e un forte abbraccio a tutti e a prestissimo anche a te anche a voi a presto ciao 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 ciao